Vai, da lontano c'è il jeb. Tutto, vai. Vai, un po' il mortale. Tutto. Ok, a ecce. Ti rende un'a dovida, eh. Tenzo. No, no. No, no. Vai, uno, due, hop. Uno, due, minuto. Uno, due, spi dai caccia. Vai. Vai. Uno, due, tre. Ora. Vai, via. ora vai ok, via, diretto vai 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 vai, allunga la mano su vai vai lavora vai minuto ok vai 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 i super 1 o Sì, 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 sì. Grazie a tutti.